Eccoci qua fringuelli a parlare del bonus mobilità 2020, un bonus che ha accontentato molte persone ma che allo stesso tempo ha scontentato moltissimi utenti che non hanno potuto per diversi motivi accedere al portale. E nella giornata di ieri, se tutto questo non bastasse, nella mattinata di ieri sono terminati tutti i fondi che erano stati destinati all'acquisto di biciclette per l'anno 2020. Non vi preoccupate perché il ministro dell'ambiente in una dichiarazione successiva a tutti i guai che ci sono stati sul portale mobilità 2020 ha espressamente detto, e vi metto qua sotto la dichiarazione, che saranno elargiti cifre per 160 milioni ma che potrebbero anche aumentare nel prossimo anno. Questi 160 milioni molto probabilmente saranno presi dalla seconda tranche di buoni, quelli cioè che varranno per l'acquisto dal 3 novembre in poi perché il ministro così come gli analisti del ministero credano che non saranno usati tutti e quindi una buona parte serviranno per coloro che hanno fatto gli acquisti dal 4 di maggio al 3 novembre. Quindi se non avete avuto modo di accedere al portale o se lo avete fatto quando i fondi erano già terminati, conservate tutti i documenti perché molto probabilmente ci sarà una nuova iniezione di denari, di euro, si parla di 160 milioni per accontentare anche coloro che non sono riusciti per vari motivi ad accedere al portale. Il mio consiglio è di tenere sotto controllo tutte le fonti di informazione, io cercherò di aggiornarvi volta per volta nel caso in cui verranno erogati nuovamente altri milioni di euro per l'acquisto di biciclette. Ad ogni modo tenete tutti i documenti a portata di mano, non perdete la speranza perché c'è ancora modo di accedere e di ottenere il rimborso. Ok? Quindi orecchie ben dritte, seguitemi sul mio canale YouTube perché comunque vi terrò giornalmente aggiornati. Ok? Ciao a tutti ragazzi e incrociamo le dita. Ciao ciao!